yuki a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale oggi siamo qui con una serie di video composta da due episodi dove andremo a vedere se i pacchetti di yuki possono essere pesati per capire se all'interno c'è una foil o solo tanta palta detto questo vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da card game corner il mio sponsor e se al check out utilizzate il mio codice sconto 2023 cappello potete ottenere il 10 per cento di sconto su carte singole e o prodotto sigillato inoltre se volete liberarvi di carte di yuki magic pokemon dragon ball one piece force will e digimon trovate il link del mio instagram qua sotto in descrizione contattatemi mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare ah ovviamente qua sotto in descrizione trovate anche il link di twitch andate a seguirmi che la sera ogni tanto stream detto questo io adesso procederei con andare a pesare le carte di diverse realtà per capire se pesano in maniera differente ragazzi so che mi volevate subito vedere pesare i pacchetti e spacchettare però nel senso questo video mi sta costando un rene quindi ho deciso di dividerlo in due ovviamente non andremo a pesare le classiche rarità di un'espansione normale che sono la common la super la secret nel caso la starlight ma andremo un po a vedere tutte le rarità uscite da inizio gioco fino adesso inizierei con questa hash common da structure e vediamo nel pratico quanto pesa allora come potete vedere si aggira sul grammo e 60 poi andiamo con una carta che è quasi common però ha un power up in più che sono star foil e le mosaic rare queste due carte uscivano da i battle pack e da sp 13 e vediamo se pesano nel pratico come una comune common allora vediamo questo che ha già tocca pesa nel pratico 1 e 59 mentre vediamo adesso ascia di istruzione quanto viene ovviamente queste non sono nm quindi può essere che c'è uno scarto di un grammo rispetto alla common comunque entrambi 1 e 59 perfetto quindi nel complesso pesano quanto una common poi ci sta anche che sto porro di bilancino da 7 euro sbagli ma non credo più di tanto bene adesso passiamo a una carta che è simile a una mosaic rare o una star foil che però viene dall'america ovvero questo pegaso zaffiro da duel terminal praticamente tu mettevi i soldi all'interno della macchinetta e ti usciva una carta che poteva essere questa che è una common o una foil che se non ricordo male è o una rara o una ultra poi ovviamente ci sono anche con pattern differenti questa diciamo che è la versione più bella di duel terminal che è il duel terminal 1 e 2 2 mi sembra forse anche il 3 allora andiamo a a pesarle e vediamo se pesano effettivamente uguali alle common e alle star foil allora andiamo a vedere allora diciamo che me lo aspettavo che pesassero meno di una normale common ma più che altro perché uscendo dalle macchinette diciamo che dovranno farle meno spesse quindi 1 e 38 per la carta americana allora andiamo adesso con una rara che ho sbustato ieri e vediamo se pesa di più di una common diciamo che mi aspetto a causa del nome argentato che pesi qualche centigrammo di più però vediamo e invece no pesa 1 e 57 diciamo che siamo sempre lì 1 e 60 e 57 quindi nel pratico le rare pesano quanto le common e quindi il nome argentato nel pratico è in influente per rarità così basse adesso andiamo a vedere con una super questa usciva da fuen un set anche abbastanza recente recente nel senso 3 4 anni e vediamo se cambia qualcosa allora vediamo quanto viene a pesare questa deve per forza pesare di più infatti pesa più di una normale common infatti stiamo sul grammo e 74 c'è una foilatura sopra a prescindere doveva pesare di più quindi diciamo che la nostra teoria sul pesare o meno i pacchetti si sta confermando più che altro vorrei fare un paragone con una carta da ots perché le ultimate di queste espansioni sono più leggere al tatto rispetto a un ultimate normale ovviamente dopo le andremo a pesare non vi preoccupate però volevo vedere se questa cosa è valida anche per le super proviamo con questo hangar union che pesa sempre 1 e 73 quindi no sulle super da ots la situazione non cambia praticamente allora passiamo adesso ad una ultra questa qui usciva da ghost from the past non è una ultra di un set regolare però non credo cambi niente e andiamo a vedere nel pratico dovrebbe pesa più di una super invece invece no perché probabilmente l'unica cosa che cambia è la scritta la scritta colorata e come abbiamo visto per le rare la scritta non è nel pratico in influente pesa un centigrammo di più però niente che sia rilevante nel peso di un pacchetto quindi nel pratico sbussando è la stessa cosa ti può uscire o questa o una super considerando poi che attualmente nei pacchetti nuovi le super sono sono ovunque adesso però ragazzi per le ultra non mi voglio fermare voglio provare anche la rarità dusa che è sempre ultra la rarità lds che è ultra quella scritta colorata e le carte da hl di cui dopo andremo a parlare allora partirei con la diva e vediamo che risultati ci dà allora 1 e 77 quindi la rarità da dusa pesa più di una ultra normale poi andiamo a vedere la carta da lds che secondo me questa pesa come una ultra normale quindi meno di quella da dusa 1 e 69 infatti diciamo che pesa forse un pochino meno della ultra si pesa 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 meno anche della super da ots però diciamo che il range è quello interessante adesso sarà vedere la carta da obi league perché queste carte nel pratico attualmente non possono essere giocate in quanto ci si è reso conto che sono riconoscibili al tatto giocando e quindi era possibile incimarsele o tenerle in fondo diciamo sono giocabili solamente il formato got perché all'epoca questa cosa non si sapeva e quindi si giocava nel pratico quindi queste dovrebbero essere tra le ultra quelle più pesanti e infatti da come possiamo vedere pesa quasi due grammi 1 e 96 quindi capite perché non possono essere giocate ovviamente voi adesso non potete toccarla però vi dico che è più plasticosa di una carta normale e fidatevi è molto più resistente allora passiamo adesso alle secret che ne ho prese di due tipologie differenti ovvero quella da mp e quella da espansione che da come potete vedere hanno pattern differenti quindi potrebbero avere pesi differenti allora inizierei con la secret da espansione che è un bellissimo sauravis e vediamo quanto pesa allora ci aggiriamo sul grammo e 76 quindi nel pratico uguale alla ultra poco di più mentre per quanto riguarda la secret da mp allora suppongo pesi uguale però nel senso controlliamo 1 e 73 poco di meno però niente di troppo influente attenti ragazzi un secondo se questo video vi sta piacendo vi invito a mettere like e ad iscrivervi perché se questo video vi sta piacendo probabilmente vi piaceranno tutti gli altri contenuti che stanno sul canale e la roba che portano i prossimi giorni a voi questa semplice azione non cambia niente ma a me da un supporto enorme e mi permette di far arrivare questi video a tutta la community passiamo adesso alla rarità gold quando ho vari esempi allora abbiamo quelle più nuove poi questa la film questa della premium gold 2 o queste della gold 1 2 3 quindi quelle più vecchie suppongo pesino tutte nello stesso modo forse l'exodia peserà di più perché secondo me li hanno abbondato con l'inchiostro però vediamo allora iniziamo con questo dark armor dragon che pesa nello specifico 1 e 49 andiamo con questo secret credo pesi di più per il partner secret 1 e 77 ovviamente lui credo pesi uguale controlliamo adesso l'exodia questo viene 1 e 76 allora io nel dubbio peserei anche questo prisma perché mi fa strano che il drago armato scuro pesi 20 centigrammi di meno infatti questo pesa 1 e 71 quindi secondo me c'è stato un problema con questa carta perché nel pratico sono della stessa cioè di una gold successiva una all'altra e questa non può pesare 10 centigrammi in meno della common parlamone però diciamo siamo tra l'1 e 71 e l'1 e 77 diciamo allora passiamo adesso alle silver che uscivano praticamente o nella ct 11 oppure nella collezione particolare dei nobili cavalieri e non sono uscite da nessun'altra parte quindi questi sono gli unici due esempi che possiamo trovare in giro partirei con il re tigre ma vi dico secondo me queste sì infatti pesano quanto le gold rare cioè il principio sì infatti 71 questa e 78 quest'altra quindi praticamente ha lo stesso principio della gold e poi la rarità è uguale cambia solo il colore diciamo che forse mi aspettavo exodia che pesasse ancora di più però non è stato così allora passiamo adesso alle robe più ciotte più interessanti ovvero le ultimate le ghost le collector e le prisma adesso vediamo se questa carta nel pratico ha un peso maggiore rispetto a una rara o una ultra nei pacchetti vecchi teoricamente è possibile capire dove si trovano e cavolo sarebbe una roba incredibile ma andiamo a vedere e invece no perché pesa 1 e 65 ovvero qualcosina in meno della ultra quindi nel pratico non è semplice capì dove cazzo sta proviamo adesso invece la ultimate da ots e vediamo cosa esce 1 e 56 infatti come vi avevo detto le ultimate da ots se rovinano solo a guardarle perché sono più leggere e 1 e 56 ragazzi è meno di una common ragazzi mi voglio togli un attimo uno sfizio voglio capire se le vecchie ulti quelle senza bordo argentato pesano uguale a quelle nuove o pesano di più 1 e 57 ragazzi le ulti pesano pochissimo quindi pesa i pacchetti potrebbe essere abbastanza difficile allora passiamo adesso alla collector e vediamo quanto pesa secondo me considerando la tipologia di pesa quanto una ultimi 1 e 72 no pesa di più cosa molto particolare perché pensavo che fosse una rarità simile alla ulti invece no è più pesante forse perché la foilatura è su tutta la carta quindi in aumento al peso passiamo adesso alla ghost boh a questo punto non mi stupisco di niente potrebbe pesare di più come di meno vediamo e cazzo cazzo raga la ghost pesa un botto 1 e 83 quindi teoricamente in un ghost from the past potrebbe essere possibile pesare i pacchetti perché nel pratico la foilatura ghost dovrebbe stare sotto tutta la carta bene ragazzi adesso pesiamo la carta con la rarità più alta di yugioh la starlight e vediamo se nel pratico pesa di più di tutte allora voglio dare una mia previsione secondo me questa pesa quanto la ghost perché nel pratico dovrebbe avere la foilatura su tutta la carta 1 e 79 pesa un pochino meno della ghost ma non credo che 300 grammi siano tanto rilevanti quindi nel pratico si pesano uguale e quindi teoricamente da un pacchetto potrebbe essere possibile riconoscerla detto questo andiamo a vedere i risultati e tentiamo di capire se è possibile pesare un pack di yugi o no allora ragazzi nel pratico qualcosa può essere riconoscibile qualcosa no allora partiamo dai set vecchi dove le ulti erano senza bordo argentato e no quelle non sono riconoscibili perché pesano nel pratico quanto le common al massimo posso riconoscere le ultra che pesano tanto di più o le super più che altro però tra le due non c'è difficile capire la differenza per quanto riguarda invece i set un pochino più recenti con le ulti col bordo argentato teoricamente si pesano un pochino più delle common però meno delle ultra e meno delle super boh diciamo che più un terno all'otto ah ovviamente ragazzi non vi ho citato le secret perché è la stessa cosa il peso è sempre quello allora per quanto riguardano i set regolari diciamo che riesco a riconoscere la foil rispetto alla common il problema è che c'è una super a pack quindi nel pratico potrei confondermene se c'è un pack che pesa relativamente di più potrebbe essere una foil interessante o la starlight perché nel pratico è quella che pesa di più rispetto al resto mentre per quanto riguardano i team non regolari quelli con le collector lì è un'altra faccenda perché ci sono solo rare che pesano 1,57 le collector che pesano 1,72 e le ultra che pesano 1,74 nel pratico è possibile capire quale sono le foil però non se è collector o meno per quanto riguarda invece le ulti da OTS è quelle che non sono riconoscibili cioè pesano leggermente di più se avete qualche pack che pesa 500 grammi di più provate ad aprirli però nel pratico è impossibile va tutto a culo allora voglio fare un attimo un disclaimer separato per le ghost perché ovviamente escono sia da espansione normale che da set non regolari come led che da ghost from the past diciamo che a livello teorico sono riconoscibili perché sono le carte che pesano più di tutti a parte ovviamente le ultra da HL perché nel pratico pesano più di una ultra da ghost from the past in un set regolare pesano anche più delle secret diciamo che se ci si sbaglia ci si sbaglia con quelle e pesano più anche delle rare perché se noi pensiamo un set come led dove all'interno c'era il dragolato dirà ghost ok c'erano le ghost c'erano le ultra le super anche quelle brutte e le rare e qui anche in questo caso risulta la carta più pesante ragazzi ovviamente qua stiamo speculando su centigrammi nel senso basta anche la bustina leggermente più grande e il peso cambia e all'interno potrebbero esserci solo common e la super ovviamente però ragazzi non mi tiro indietro mi sono premunito e settimana prossima li andremo a pesare e ad aprire detto questo ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti